Ciao, sono Marta Bechis. Ciao, sono Miriam Silla. Ovviamente lei. Succede, sì, sì. Sì, si chiama Gia Gia. È una canzone francese di Aya Nakamura. Sarà una canzone tipo quella nella vasca e ti lavi e non me lo ricordo. Lui è Moro. Ti sento. Cos'è detto? Nella vasca mi bagno, mi asciugo. Però non so il titolo. È italiana o è inglese? Tuka Tuka mi piaci tanto, tanto che sembra impossibile. Mi racconta proprio di te. La Vespa. Oh, la Vespa cos'è? Come cazzo si chiama? Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. È questa? La Vespa. Lei è brava in questo, voi trovate. Il reggaeton è reggae, reggae. Secondo me... Grecia. Sirtaki. Bravissima. Bravissima. Danza è rova. Danza. Ballerina classica. Sei bravissima, Miri. Sei una ballerina di danza classica perfetta, direi. Non, 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 non. Grazie a tutti.